Sospese quattro attività imprenditoriali ed elevate sanzioni per oltre 150 mila euro il bilancio dei controlli del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Vicenza, unitamente ai comandi stazione di Chiampo e Trissino, nell'ambito dell'attività finalizzata la verifica del rispetto della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nonché alla prevenzione e repressione del fenomeno dello sfruttamento del lavoro e di quello sommerso. Controlli che sono stati effettuati all'interno dei cantieri edili tra la Valle dell'Agno e quella del Chiampo, che hanno portato in totale al deferimento alla Procura della Repubblica di Vicenza di 15 imprenditori, emessi quattro provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale, di cui uno per lavoro nero e tre per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.